Dopo l'ultimo treno della notte la stazione di Porta al Serraglio resterà chiusa fino alla mattina seguente. È questa insieme a un rafforzamento della videosorveglianza la decisione a cui sono arrivati Comune e Rete Ferroviaria Italiana con l'obiettivo di mettere in sicurezza una delle aree in assoluto più critiche di Prato. Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra Polizia Municipale, Rete Ferroviaria Italiana ed SGM, la società che gestisce il parcheggio del Serraglio e che si è detta disponibile a una collaborazione. La chiusura degli accessi ai binari rientra nel progetto più ampio presentato lo scorso ottobre in prefettura nell'ambito del patto per Prato Sicura, finalizzato a garantire più sicurezza anche nelle stazioni ferroviarie e a questo scopo individuare le soluzioni più idonee a tutelare l'incolumità dei cittadini e il decoro delle strutture. Episodi di spaccio di stupefacenti, furti, scippi, risse e aggressioni si ripetono con sempre maggiore frequenza nella zona del Serraglio che comprende anche il cosiddetto triangolo nigeriano alle spalle di Piazza del Duomo. Da qui la necessità per il Comune di mettere in piedi iniziative di contrasto. A titolo completamente gratuito per l'amministrazione comunale, la convenzione prevede che personale di Rete Ferroviaria Italiana ed SGM intervenga in caso di imprevisti, ritardi, difficoltà a far allontanare persone presenti in occasione della chiusura e dell'apertura del cancello che è situato al piano terra e a garantire un servizio di pronto intervento nel caso qualcuno rimanga chiuso all'interno. Cartelli appositi indicheranno gli orari di apertura e chiusura ai viaggiatori.